Tenere un cane alla catena all'esterno con questi caldi è comunque deleterio perché dovrebbe essere garantito un riparo, la possibilità di avere acqua fresca sempre a disposizione. Se ci sono situazioni di questo tipo invitiamo anche a segnalarle. Sono assolutamente delle condizioni che possono rientrare nel reato di maltrattamento. L'appello che arriva da EMPA è dunque quello di segnalare e denunciare episodi simili anche attivando l'apposito nucleo della Polizia Municipale di Arezzo. Tenere cani alla catena è infatti vietato in Toscana a stabilirlo un'ordinanza del Presidente della Regione. Fa troppo caldo e il rischio che scoppino incendi a causa della siccità è molto elevato. Il motivo appunto è quello di permettere all'animale se venisse in caso di incendio di potersi allontanare quindi non rimanere bloccato nel luogo dove eventualmente può scoppiare un incendio. Sicuramente è una ordinanza che va nella direzione giusta, si potrebbe fare anche qualcosina di più. L'estate il caldo estremo di questi giorni può essere comunque difficile per tutti gli amici a quattro zampe. Soprattutto per i cani parlo evitare di portarli fuori nelle ore più calde del giorno, quindi farli uscire la mattina presto e la sera quando si è rinfrescato. Dargli sempre acqua a disposizione, acqua fresca a disposizione. Anche sul cibo cercare di privilegiare cibi morbidi, umidi. Dentro casa se c'è la possibilità di tenerli in stanze più fresche è meglio. Il rischio è quello del colpo di calore. I primi sintomi sono l'affanno respiratorio. Tende a respirare velocissimamente, si muovono il meno possibile, poi i sintomi si aggravano più si va avanti, ci può essere svenimento, debolezza, vomito, fino al coma e alla morte. Cosa fare? Banalmente va portato il cane in un luogo più fresco possibile e va raffreddato il cane più velocemente possibile. L'acqua e il ghiaccio sono gli strumenti migliori per fare questo e poi in un secondo momento portarli dal veterinario.